Un saluto a tutti e bentrovati con un video aggiornamento sull'andamento del mio canale, su quello che ho intenzione di fare nel futuro prossimo, anzi futuro recente del canale E anche per ringraziarvi dei mille e quattro iscritti che ho raggiunto, ogni giorno calano, scendono, tipo ieri erano milleotto, oggi sono millequattro, gente che si toglie, si iscrive, fate un po' quello che volete Comunque abbiamo raggiunto i mille iscritti, un traguardo buono, positivo, io non creo canali, creo canali, sì, ciao, creo video su YouTube for fun, quindi mi fa piacere che siamo arrivati a mille Che guardano, non raggio mai numeri altissimi nelle mie visualizzazioni, 400, 500 massimo, mi stanno calando un po' di interesse i video su Bellun Crucis, ma adesso li farò un po' più con più di frequenza, video adesso Comunque sono contento, vi ringrazio a tutti, oggi spedirò anche i codici del giveaway su Origin, ricordo che sono chiavi di Origin, quindi dovete riscattarle non su Steam, ma su Origin, la piattaforma della Era Games E niente, ancora complimenti a chi ha vinto e bla 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 Cosa volevo dirvi? Ok, da questa settimana, cioè da oggi, oggi lunedì 16 settembre, sono tornato adesso da due ore a casa, da una mini vacanza che ho fatto con la mia ragazza di un paio di giorni Cosa volevo dirvi? Che purtroppo da domani ricomincio l'università, cioè entri anche da oggi che devo fare delle commissioni e robe varie Però ricomincio l'università, quindi... Avevo deciso, sia per me che per voi Che guardate, comunque siete interessati, vedo comunque un sacco di gente interessata soprattutto alla campagna nuova di ROM2 Ehm... E' interessata di mettere delle cadenze fisse o comunque rimanere in certi paletti Dei miei video La mia idea era questa, fare tre uscite settimanali di video, visto che comunque essendo arrivato all'ultimo anno senza esami indietro Non volevo lasciarmi l'ultimo anno, il terzo anno che c'era la triennale Esami indietro, abbassarmi la media Quindi pensavo di fare uscire tre video a settimana Magari con cadenza, ad esempio, in modo da coprirla tutta Ma ho quattro, quattro, adesso vedo in base a... Magari ci saranno settimane che ne escono due, altre che ne escono cinque Comunque in base... Direi più o meno di farne uscire tre a settimana Ehm... Con una cadenza che va... Ehm... Gestita in questa maniera Uno lunedì, ad esempio, lo metto a caricare la domenica sera In modo da che per lunedì mattina è già pronto Uno magari il giovedì o il mercoledì, a metà settimana E uno il venerdì o il weekend In modo da riempire tutto l'arco della settimana Poi magari può essere che ne escono due Subito uno dietro l'altro, lunedì e martedì Uno il giovedì e uno il venerdì E poi niente il weekend Oppure ne escono solo due Uno il lunedì e uno il venerdì E il mercoledì non ho potuto farlo Quindi comunque direi di fare una cadenza del genere E avrei anche deciso di mettere dei giorni settimanali In cui... Cioè, ripetendo, ripeto Dei giorni settimanali Dei periodi della settimana in cui escono determinati video Ad esempio pensavo che il lunedì Tipo oggi ad esempio no Perché carico questo video Di far uscire il lunedì Rom 2 Total War Quindi ogni lunedì avrete un nuovo episodio di Rom 2 Magari un po' più lungo rispetto al solito Magari sulla trentina di minuti O comunque magari due episodi Un episodio tagliato in due Quindi un episodio... Quindi parte 1, parte 2 Di uno stesso episodio In modo tale che possiate magari Vedervlo durante la settimana O quando volete voi Il mercoledì Un gioco casuale Che sceglierò tra le playlist che ho ancora da ultimare Quindi tra Third Age Company of Heroes Red Orchestra GTA Tropico 4 Plug Penumbra Questi sono quelli che sono un po' in stand-by Dei zi Vabbè questi qua non sono video che continuano Cioè sono video faccio for fun Con una preferenza per Tropico 4 e Penumbra Perché siamo vicini alla fine Soprattutto in Tropico Siamo vicini alla fine E vorrei ultimare L'ultituto Tropico Devo solo caricarlo Solo che ho tagliato una parte Quindi devo scrivere delle cose nel video Quindi è un editing un po' più lungo Third Age È un lavoro un po' più lungo di nuovo Insieme a Bellum Crucis Quindi me lo prendo con calma Tanto non sono previste Nuove patch A breve E anche se così Uscissero Finisco Conquisto Mordor Ed è finita Così Mentre Bellum Crucis Vorrei finirla per Natale Che esce poi la nuova versione di Bellum Crucis E vorrei iniziare una nuova campagna Mentre Red Room Total War Anche questo è un po' certo a lungo termine Non essendoci espansioni O cose strane Cioè stanno uscendo patch su patch Perché il gioco è un po' buggato Se avete letto un po' i forum E vi aggiornate sul titolo È un gioco un po' Nato male Rom 2 Che ha dei problemi Per colpa della Sega Secondo me Non tanto della CA Della CA Della Creative Assembly Ma per più della Sega Che è una software house di merda Niente Quindi questa è la mia idea E il venerdì Far uscire Bellum Crucis Vorrei dare una bella mazzata Con Bellum Crucis Quindi ricapitolando Il lunedì Rom 2 Il mercoledì Gioco casuale E il venerdì Bellum Crucis Queste sono le mie tre Idee di uscita Come avevo detto I giochi casuali Sono quelli che ho nelle playlist Può essere un gameplay Di una partita Red Orchesta Di Companion Virus Un gameplay Di Forest Response Che non l'ho dimenticato Sto provando nuove mappe C'è una che Assumide molto a GTA San Andreas E quindi con le montagne Quindi c'è da fare Tipo andare in gioco Il fuoristrada Molto carino La sto provando Perché è un po' buggata Quindi voglio vedere Se va in conflitto le cose Tropico E penumbra Queste sono le idee Che avevo Per il canale Qui nei suoi c'è ancora I taci At a time of the angel Come trailer Per i non iscritti Forse dovrei metterci Una presentazione del canale Ma chi se ne frega Mi piace un casino Questo che ho fatto Già 1219 visualizzazioni E comunque Questi sono gli aggiornamenti Sul canale Oggi come ho detto Vi invio i codici A chi ha vinto Altro da dire Domani faccio uscire Cioè domani Stasera metto a caricare Il video su Su D-ROM 2 Total War Che ho già pronto Ho già fatto La continuazione della campagna Quanti episodi siamo arrivati Già Siamo arrivati al sesto episodio Che deve uscire Quindi sta andando A gonfie vele Niente Che dire Grazie per i mille Pass iscritti Continuate a seguirmi Un saluto a tutti E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!